A Civitella in Valdichiana e a San Pancrazio si marcia per la pace in ricordo delle stragi nazi fasciste ma il pensiero oggi va alla guerra in Ucraina. Vedere quelli che distruggono le case ammazzano la gente per cosa? Ma la storia non ha insegnato assolutamente niente. 9 chilometri per ripercorrere i luoghi della strage era il 29 giugno del 1944 tra San Pancrazio, La Cornia e Civitella vennero trucidate 244 persone. Il nostro paese Civitella rasa al suolo e per televisione facciamo vedere ai nostri bambini che ancora città vengono distrutte, bambini, uomini e donne uccisi e profanati anche i corpi. Come è successo a Civitella? Perché là li vediamo adesso nelle fosse comuni, Civitella li hanno addirittura bruciati, portati negli androni delle case e bruciati. Parola pace è una parola breve, è una parola facile da pronunciare ma è evidentemente molto difficile da attuare. A noi il compito, il compito grande e importante è la memoria, la memoria e sapere trasmettere. Ecco perché è importante i ragazzi. E ragazzi perché questo? Perché noi ora trasmettiamo a loro ciò che loro devono trasmettere alle loro generazioni. Ancora più importante andare a lanciare in questo particolare momento storico in cui vediamo gli orrori della guerra tornati in Europa è importante andare a lanciare quello che è un messaggio di pace e sempre e comunque non solo in Europa ma in tutte le parti del mondo.